Grazie a Stefano Luciani da studio e a Pierfrancesco Mauro, si va agli ordini dello start e partiti. Vediamo come vanno le posizioni determinanti, ha fatto partenza nel centro del Cuneo, My Gray Hope, con all'interno Faniente, anche Perfectly, con Faniente che supera Perfectly, che si copre avendo all'esterno My Gray Hope, mezzo alla pista, mezzo alla pista si fa per dire, da qualche metro dello steccato per essere precisi, Suvlaki anticipa Pink Sunrise, andatura regolare, quella che impone Claudio Colombi e Faniente, la impone a Suvlaki in corda Perfectly, con di fuori My Gray Hope, in terza corsia scoperto e Pink Sunrise, che ha nella scia Land of Freedom in coda, sono Cielo d'Irlanda prima e Low to be fast, poi Suvlaki accompagna Faniente all'uscita del Bosco, prima dell'intersezione, con Perfectly nella scia, insieme a Pink Sunrise, va in quarta corsia Land of Freedom, dietro a questi My Gray Hope, Low to be fast e Cielo d'Irlanda, l'andatura è molto regolare, con Suvlaki che rompe l'indugi, ha nella scia My Gray Hope, che non sa dove andare per il momento, cerca il varco, intanto Gavino con My Gray Hope, ha lo steccato Perfectly, fa niente, Suvlaki, My Gray Hope all'esterno si presenta Land of Freedom, ancora a tirare, ancora a strappolare, ancora all'appoggio, anche se il terreno è insidioso, My Gray Hope contro Land of Freedom, che deve sfilare la frusta all'interno, Low to be fast, vanno a lottare questi, My Gray contro Land of Freedom, sta rituzzando il primo attacco, My Gray Hope, la fondo ulteriore di Land of Freedom, My Gray Hope fino in fondo, Land of Freedom, Low to be fast, Cielo d'Irlanda. Gavino Sanna, My Gray Hope, su Land of Freedom, e terzo, Low to be fast, eccesso di fiducia di Dario Tocco a betarretta, su questo terreno bisogna venire via, traccheggiare, non è mai positivo, terzo, Low to be fast, cresciuto rispetto al recente successo, cresciuta, in questo caso, quarta, Cielo d'Irlanda, da rivedere, forse sul terreno, meno lavorato, tre, otto, cinque, quattro, è l'ordine di arrivo, per il momento è tutto. Grazie a tutti.